Per me camminare nella dignità contro la tratta vuol dire che impegnarsi quotidianamente nel nostro piccolo, nelle nostre azioni, nel nostro formarsi e anche non soltanto per noi stessi ma anche formare delle nuove generazioni di dare una dignità assoluta alla propria vita. Io lavoro in Albania in un'associazione che quotidianamente siamo in contatto con dei giovani a livello di prevenzione con la tratta e anche siamo in contatto con delle persone che oramai purtroppo sono vittime della tratta degli esseri umani. Serve creare le relazioni di amicizia con queste persone qua e dare non soltanto la nostra professionalità ma dare a loro il nostro essere in modo tale che tutti insieme possiamo camminare verso quello che è il dono più grande che abbiamo che è la dignità. Grazie. Grazie.